mi ha detto che le ha portato via due paia di scarpe e un vestito da lavoro che erano in auto erano in auto e l'autoradio invece le hanno lasciata ah, le hanno portato via solo i vestiti e le hanno lasciate l'autoradio strano ma è così insomma, lei non ha sentito niente ho portato via in tutta la strada, circa una ventina di macchine sono state dranneggiate, sono state derubate tutto questa notte, venti macchine su quest'auto il signore mi ha detto che è venuto dopo a casa verso le due perciò è successo dopo avete dei sospetti? io stamattina sono uscito, ho visto lì le cose ma non abbiamo sentito assolutamente niente ma la prima volta che accade una razzia così importante? così sì però c'è episodio? per esempio, due o tre anni fa ho bruciato il motore del cancello elettrico ho fatto scoppiare diverse volte la cassetta della posta ma è una zona non tranquilla questa qui, non lo so io bisognerà che le istituzioni prendano dei provvedimenti perché così non si può andare avanti possiamo sapere se è una cosa che succede di frequente oppure? in anni sì, molto frequentemente cosa succede? cioè vi svegliate la mattina e vedete le macchine? esatto ma è una strada sicura questa di solito? anche la polizia o in tanti carabinieri dovrebbero passare molto più frequentemente me l'hanno detto stamattina che hanno spaccato tutti i vetri io però non ho visto niente, io abito qua sopra non ha sentito neanche rumori? ho detto la mia vicina che hanno rotto i vetri delle macchine non è la prima volta che accade tra l'altro? a me tanti anni fa mi hanno rotto tutte le serrature, ho dovuto cambiarle poi alla fine ho dovuto cambiare la macchina perché me l'hanno rubato tutto dentro hanno rubato stupidate il gettone, cose proprio futili avevamo proposto di fare il parcheggio all'interno i condomini hanno detto che loro hanno comprato perché c'era il giardino e non hanno voluto fare il parcheggio all'interno se ci fosse stato un parcheggio interno adesso non ci sarebbe stato questa raccoglia magari poteva esserci anche all'interno però era un po' più una riservatezza ma non è la prima volta che accade tra l'altro che vengano prese di mira? non è la prima volta rubano le gomme addirittura? sì, sì, c'era una macchina con i mattoni sotto hanno aperto il garage, sono bicicletta da corsa quindi non è un episodio isolato quello di questo? no, 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 praticamente da giorno ho due volte sono mio figlio sono andato l'anno scorso agosto, ho buttato l'appartamento da me sono due anni fa sono andato vicino due volte, io sono ancora fortunato bicicletta nel garage tanto questa notte mi ha detto che si parla di una ventina di auto addirittura adesso adesso ho visto questa signorina qua è arrivata adesso è stato questa notte penso ah, una ventina di auto ventina eccetera Grazie.